La vertice in prefettura a Verbania in mattinata per fare il punto sulla frana di Cannobbio, lo ricordiamo, costata la vita ad un motociclista svizzero che ha provocato il ferimento di due automobilisti novaresi. Il prefetto, Iginio Olita, ha convocato sindaci, ANAS, forze dell'ordine e responsabili della navigazione del Lago Maggiore per fare il punto su quanto accaduto e programmare gli interventi necessari a riaprire la statale 34 che collega Verbania al confine italo-svizzero di Piaggio-Valmara. L'arteria è percorsa ogni giorno da centinaia di lavoratori frontalieri. Ancora è incerta però la data effettiva della riapertura.